Un'opera molto importante come tutte le opere pubbliche che richiedono molti sacrifici, molti sforzi del personale tecnico, dei docenti e soprattutto degli studenti. I studenti hanno atteso veramente tantissimo questa opera, la dedichiamo a loro oggi, così come a tutti i docenti del Dipartimento di Lettere e Filosofia e il personale tecnico e amministrativo che è bibliotecario che oltre ad attendere tanto ha partecipato in prima linea alla realizzazione degli allestimenti che voi oggi vedete. Sono 4.500 metri quadrati, 12 grandi aule, 50 studi, 4 laboratori, una biblioteca degna di questo nome, biblioteca di lettere non poteva che essere così ampia, anche con un magazzino altrettanto ampio che serve a mantenere anche in un certo modo, quindi con tutti i criteri di sicurezza, i testi più preziosi. Sono tanti anni che aspettiamo di trasferirci in questa palazzina, ci sono state varie traversie come forse saprete. E niente, siamo contenti, abbiamo finalmente preso possesso della palazzina, la vedrete molto bella e accogliente e sono fortunato gli studenti che si iscriveranno quest'anno rispetto agli studenti del passato, insomma che hanno un po' sofferto anche loro. Abbiamo sofferto un po' tutti, ma tutti gli studenti non ci hanno mai abbandonato, nel senso che sono sempre venuti, è andato sempre tutto bene e ora andrà ancora meglio in questa bella palazzina. L'Università di Cassino si arricchisce di questa nuova, moderna struttura dove si trasferisce il Dipartimento di Lettere. Era attesa da anni, ma finalmente siamo riusciti ad ottenere questo grande risultato. Questa è la dimostrazione dell'impegno che è avvenuto soprattutto da parte delle istituzioni universitarie, ma anche un arricchimento della città di Cassino in senso lato. Portare degli altri studenti in questa città, avere delle strutture confortevoli e moderne, significa avere un'università al passo coi tempi, ma anche una città al passo coi tempi. Certamente quando parliamo di benedizione parliamo di un bene di cui Dio si rende partecipe, avvalorando il nostro impegno con la sua presenza, benedicente appunto, che significa una vicinanza di Dio a tutto quell'ingegno umano che promuove una crescita, promuove un processo, qual è quello accademico, di grande valore per Cassino e il suo territorio e tutti coloro che qui convengono e convergono anche dall'estero come studenti, come iscritti. Dunque questo momento di crescita del polo universitario è qualcosa di molto bello e gratificante. Significa non solo un'approvazione di tutta una storia dell'Ateneo, ma un ulteriore sviluppo e un'ulteriore crescita al fine di potenziare quello che già accade, quello che già si svolge, ma anche favorire un ulteriore accesso nei servizi e nell'offerta formativa per i tanti che qui possono trovare davvero un punto e un polo molto qualificato, anche grazie a questa inaugurazione di cui oggi siamo tutti grati a chi si è impegnato a realizzarla e soddisfatti per il risultato raggiunto.